Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di Damiano Daymaneskin che ha diffuso sui social alcune sue foto nudo. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. Damiano David Daymaneskin sta sperimentando un momento di relax durante una pausa dal tour, e come al solito, non resiste alla tentazione di sfidare la censura sui social. In un gesto che ha lasciato i fan stupefatti, il carismatico cantante si è spogliato per un selfie audace, decidendo di coprire le parti intime con un asciugamano. Dopo essere stato al centro del gossip per la rottura con Giorgia Soleri e le polemiche sulla loro relazione non monogama, Damiano è rimasto imperturbabile e ha continuato a documentare la sua vita attraverso i social. La sua irriverente anima è emersa ancora una volta quando ha condiviso questo scatto provocante con tatuaggi in mostra e addominali scolpiti, ma con un'espressione finto scioccata. Queste foto senza veli sembrano essere una sorta di tradizione per il cantante, soprattutto nei momenti di relax. I fan hanno reagito con entusiasmo, apprezzando la sua bellezza e il suo fascino magnetico. Damiano David non ha mai avuto paura di mostrarsi autentico e provocatorio sui social, dimostrando ancora una volta la sua personalità unica. Mentre il tour dei maneskin continua a riscuotere successo in tutto il mondo, Damiano si concede questi momenti di distensione, suscitando l'attenzione e l'ammirazione del pubblico con il suo spirito libero e il suo talento innato. Resta da vedere quali altre sorprese ci riserverà questo carismatico frontman nei suoi futuri post sui social. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti gli ultimi gossip. A presto!